radio insieme presenta tre cani intorno all'osso live venerdì 23 dicembre baraca prato piazza mercatale a partire dalle ore 22 e 30 filippo eugenio e fabio ve le suonano delle belle appuntamento con musica dal vivo per farsi gli auguri di natale venerdì 23 dicembre baraca prato tre cani intorno all'osso live un trio di cui ci si può innamorare sponsor by matteo marchi